In tutta la regione Marche è partita oggi 12 ottobre la campagna vaccinale anti-influenzale che per il secondo autunno può svolgersi in maniera combinata alla cosomministrazione del vaccino anti-covid. A somministrare i vaccini saranno i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, le farmacie che aderiscono alla campagna e i centri vaccinali presenti in provincia. Come quello pesarese di Vianitti dove questa mattina abbiamo incontrato il dottor Augusto Liverani che supervisiona la campagna vaccinale per l'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino. La vaccinazione anti-influenzale è raccomandata per determinate categorie che sono state individuate dalla circolare ministeriale che sono i soggetti di età maggiore o uguale 60 anni, i bambini che hanno un'età compresa tra sei mesi e sei anni, poi tutti i soggetti che hanno delle condizioni patologiche di rischio che li espongono a forme particolarmente gravi di influenza, gli operatori sanitari e sociosanitari, gli addetti a servizi pubblici di primario interesse, i soggetti che lavorano a contatto con animali e i donatori di sangue. Quella dell'influenza è una campagna vaccinale che si scontra con un pericolo spesso sottovalutato. L'influenza rimane un grandissimo problema in sanità pubblica, è associata a elevati tassi di mortalità e morbidità, le forme gravi colpiscono soprattutto i soggetti anziani, i soggetti con patologie croniche di base, le donne in gravidanza, i bambini molto piccoli ed è classificata tra le prime dieci in Italia, è classificata l'influenza e la polmonite ad essa associata tra le prime dieci casi di morte. Noi in Italia ci sono almeno 8 mila decessi all'anno correlati all'influenza. E se l'influenza rischia di apparire pericolo sottostimato, sul Covid alleggia invece la sottovalutazione di un pericolo che sembra archiviato. suggeriscono il contrario un recente rialzo dei contagi per quanto ha impatto ospedaliero nettamente più contenuto rispetto al periodo pandemico. Comprendo che per il vaccino Covid c'è una certa stanchezza vaccinale ma è fondamentale che le persone fragili, gli anziani, gli operatori sanitari, le donne in gravidanza, i soggetti con condizioni patologiche e rischio si sottopongano a richiamo con il vaccino aggiornato contro il Covid-19. Perché è una patologia che ormai si trova allo stato endemico e i ricoveri e le forme gravi riguardano essenzialmente queste categorie. La cosomministrazione dei vaccini anti-Covid e anti-influenza è raccomandata dall'azienda sanitaria in quanto consigliata per categorie di persone pressoché sovrapponibili. Da questo punto di vista è molto importante anche la comunicazione che proviene degli operatori sanitari e cioè i medici in medicina generale, quindi i medici di fiducia devono essere formati su questo aspetto, sul fatto che la cosomministrazione è una pratica raccomandata che non produce effetti collaterali maggiori rispetto alla somministrazione singola e che ha soltanto dei vantaggi, vantaggi di proteggere più malattie in poco tempo e di ridurre le liste d'attesa. Grazie.